C'è una categoria più grande di quello che ci attende come suggerimenti. La maggior parte dei problemi di stakeholder stanno a cambiare lei. Non c'è un problema con la capacità di cambiare lei. Ora c'è un gruppo che accade il corso per la wet haven juristica che mi piavano a juristica che ci attraverso il cambiare lei. E ci attraverso la esperanza che ci attraverso più. Ora c'è un gruppo di due corsi che ci attraverso più juristiche che ci attraverso il corso. Con la quantità di juristiche di aggiornamenti, ci attraverso il cambiamento. Però non ci attraverso il momento, se ci attraverso il risultato di ripieno, non ci attraverso il risultato. E' un'altra parte gradualmente aumenta, ma ci attraverso la libertà di costa che ci attraverso. E' un'altra parte, la mia compagnia, durante la riunione, non c'è la verità che ci attraverso la legge, ma ci attraverso cambiare. Però c'è un altro punto che c'è l'interesse di iniziare che ci attraverso la legge e ci attraverso la legge. E' un punto di urgencia che ci attraverso la legge. che ci attraverso la legge. che ci attraverso la legge. che ci attraverso la legge, che ci attraverso la legge. 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 Ma ci attraverso l'intercambiare che ci attraverso la legge. Però, per esempio, un caso sinсе che ci attraverso la legge, un cliente che arriva nel test. in boc nanta puntrava delanta si vota vai di acuerdo panan por intercambià di informazione di bo nata esplica vota pachico ante si bo firma pabai di acuerdo anteriore popor e acaba llega ma cerca di vomita e bo por registra e persona non è verdad lei nota per me tiemblo tengo cambiare però di otro manera tal vez bondi ega completamente na vomita per boppo llega sin a vomita ad esempio apprecia di nancurata busco outra maniera posso lusione per verdad cambio di late un punto un punto hop importante grazie